Musica Buonasera, bentrovati con l'appuntamento dell'informazione del Tg Max. La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la richiesta presentata da alcuni consiglieri regionali di referendum abrogativo della riforma della geografia giudiziaria. Il Comitato Nazionale annuncia ricorso alla Corte di Giustizia Europea e dice che è stato di fatto cancellato l'articolo 75 della Costituzione. A chiedere il referendum erano stati nove consigli regionali pari ad una popolazione di 23 milioni di italiani. E a vasto oggi si è tenuta un'assemblea affollata a Palazzo di Giustizia. Il Presidente dell'Ordine Forense, Nicola Artese, ha parlato di nuova mobilitazione per scongiurare la soppressione del Tribunale Locale. E' anche chiesto di formare un comitato per salvaguardare il Tribunale di Vasto e quello di Lanciano. Assemblea affollata nell'aula magna del Palazzo di Giustizia, convocata dal Presidente dell'Ordine Forense Vastese, Nicola Artese. Una nuova mobilitazione per scongiurare la soppressione del locale tribunale. E non hanno voluto far mancare di sentire la loro vicinanza i consiglieri regionali, Giuseppe Tagliente, Antonio Prospero, Emilio Nasuti, Antonio Menni e Nicola Argirò. Oltre ai sindaci di Vasto, San Salvo, Casalbordino, Cupello, Scerni, Celenza Sultrino, Pollutri e Torre Bruna. Un forte invito a difendere il Tribunale di Vasto è stato rivolto all'indirizzo dei parlamentari sul territorio. Gravi le ripercussioni sulla sicurezza nel caso in cui i tribunali come Vasto, Lanciano, Avezzano e Sulmona verranno chiusi, ha detto il Presidente degli Avvocati, Nicola Artese. La chiusura del Tribunale comporta non solo che l'ufficio fisico del Pubblico Ministero sia più lontano sia a Chieti, comporta che la Polizia Giudiziaria, che fa le indagini, che è l'argine contro la criminalità, sia per lo più collocata a Chieti e non a Vasto. Tutte le forze dell'ordine che collaborano con il Pubblico Ministero, con la Procura della Repubblica per fare le indagini, non sarà più qui sul luogo. La provincia di Chieti è atipica perché non ha il capoluogo al centro, ha il capoluogo a nord e l'orografia della nostra regione, del nostro territorio, non è stata tenuta in nessun conto da parte del Governo. Se noi dobbiamo pensare a una persona di Castiglione Messermarino o al mercello dei carabinieri di Castiglione Messermarino che per riferire su un'indagine deve andare a Chieti, speriamo che è l'assurdo. Ma ci saranno ripercussioni anche direttamente sulle tasche dei cittadini? C'è una diversa organizzazione che dovranno assumere gli studi legali, perché Chieti comunque è a più di 70 km, i costi potrebbero aumentare, anche se i costi delle cause negli ultimi anni, con le nuove tariffe, con i nuovi provvedimenti coordinativi, sono stati effettuati tutto a danno degli avvocati. Ma aumentano le spese fisse, le spese degli ufficiali giudiziari di trasferta, aumentano gli oneri dello Stato per il rimborso delle spese dei testimoni nelle cause penali, aumentano tutti i costi. Ancora a tribunali minori, la senatrice Stefania Pezzopane del Partito Democratico ha presentato un emendamento al decreto 1000 proroghe. L'obiettivo dichiarato è quello di ottenere una proroga di 10 anni per derogare la riforma delle circoscrizioni giudiziarie nelle province abruzzesi che interessa i tribunali di Avezzano sul Monalanciano e Vasto e quindi evitarne la soppressione. Voltiamo pagina all'Aquila, il PD difende la città e il sindaco Massimo Cialente e chiama a raccolta la cittadinanza venerdì manifestazione al Parco del Castello. Via Trigilia da delegato speciale del Governo per la ricostruzione, fondi certi per il 2014, un miliardo l'anno per la rinascita dei centri storici e impegno diretto dell'esecutivo nazionale nella vicenda all'Aquila. Richieste nette e soprattutto impegnative quelle che i massimi vertici del PD abruzzese hanno messo sul tavolo nell'incontro con Stefano Buonaccini, esponente della Segreteria Nazionale Democrat, e Renziano Di Ferro, oltre che responsabile per gli antilocali del partito. Secondo ogni iscrezioni, potrebbe essere proprio Buonaccini a seguire da vicino le vicende della ricostruzione per il Partito Democratico, ma la questione, sollevata a gran voce nei giorni scorsi della senatrice Pezzopane, è quella legata all'esaturazione di Trigilia, durissimo sui media nazionali, nei confronti del sindaco di Missionario Cialente e della sua amministrazione. L'obiettivo è quello di riuscire a strappare un impegno diretto del premier Enrico Letta o di un suo delegato, rinviato per essere rimodulato nei contenuti, l'incontro che era previsto proprio per oggi tra il capo del governo e il primo cittadino, fissato prima che le dimissioni facessero precipitare la situazione politica del capoluogo. Oltre alla certezza dei fondi, per garantire la continuità nell'operazione di ricostruzione, gli esponenti del PD regionale e provinciale d'Aquilano, oltre alla senatrice Pezzopane e all'ex parlamentare Lolli, invocano il superamento della barriera deficit PIL del 3% per le spese legate alle emergenze ambientali, una battaglia che può essere combattuta solo a Bruxelles al cospetto della Commissione europea, che è l'unica deputata a decidere in merito. Intanto il partito si prepara al confronto pubblico di venerdì prossimo, alle 17.30 al Parco del Castello, con la cittadinanza, un momento di dialogo che si preannuncia duro ma necessario per testare con mano quali sono gli umori della piazza e provare ad iniziare un percorso che, se non dovesse portare al ritiro delle dimissioni di Cialente, assai improbabile anche per chi gli accanto in questi giorni, potrebbe gettare le basi in vista delle elezioni di maggio. Elezioni, chieste a gran voce dal consigliere forzista Guido Liris, che come altri esponenti del panorama politico e non della città, si sta preparando per l'election day. La questione non sono tanto le dimissioni del ministro Trigiglia, dice l'ex parlamentare Giovanni Lolli, quanto invece la ricostruzione sia presa in carico dalla presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo è quanto dichiara Lolli. Sentiamo. Noi abbiamo detto non vi chiediamo solidarietà per noi o per Cialente, vi chiediamo aiutate l'Aquila. Aiutate l'Aquila perché questa città è stata colpita, io uso il termine, non ne so trovare altro, chiedo scusa a tutti voi, sputtanata, in un modo inaudito a livello nazionale e la nostra grandissima preoccupazione, ma è che è qualcosa più che una preoccupazione, è che sulla base di questo enorme sputtanamento della città se se ne voglia approfittare per liberarsi definitivamente di noi, come un ingombro, una rottura di scatola e cioè, siccome l'Aquila costa, costa soldi pubblici, costa procedure, costa impegno, ci possa essere. Questo è quello che d'altra parte noi desumiamo leggendo quanto ha detto il ministro Trigiglia ieri e un po' cogliere l'occasione per archiviarla. Vogliamo sapere dal nostro partito se al di là, non vogliamo che ci difenda, ci difendiamo da soli, la nostra onorabilità, quella di Cialente e quella nostra all'Aquila, noi ce la difendiamo da noi, lo faremo venerdì come è noto in una manifestazione, invito tutti a venire e al castello, ma noi abbiamo chiesto difendere l'Aquila, difendete l'Aquila e per difendere l'Aquila significano alcune cose, prima di tutto che ci diano i soldi che mancano, perché mancano, che ne dica Trigiglia, adesso qui ho tutti i dati, sono dati pubblici, monitorati dal tesoro, monitorati dalla tesoreria dello Stato e forniti dagli uffici della ricostruzione, che sono uffici pubblici, non comunali, quindi i soldi che mancano, affronti seriamente finalmente queste questioni con l'Europa e soprattutto non è più possibile che noi andiamo avanti affidati a un ministero che chiaramente non ce la fa, noi data la straordinarietà della situazione dobbiamo essere affidati, seguiti direttamente alla Presidenza del Consiglio, perché in una situazione così straordinaria, così grande debolezza, è evidente che affidati a un ministero, l'equivoco di quel ministero non è Trigilia, che è una persona, io insomma lo contrasto in questo periodo, ma è che quel ministero funzionava quando c'era barca. E la Procura dell'Aquila ha aperto una nuova inchiesta, questa volta per falso in atto pubblico e truffa i danni dello Stato da 250 mila euro sulla vicenda denunciata da Massimo Tomeo, imprenditore di Vasto che aveva eseguito in subappalto lavori di messa in sicurezza dell'istituto scolastico Denino Morandi di Sulmona, affidati dalla provincia dell'Aquila ad una associazione temporanea di imprese. L'imprenditore Vastese che ha denunciato più volte il fatto di non essere stato pagato dalla provincia dell'Aquila mettendo a rischio la sopravvivenza della propria azienda, nei mesi scorsi aveva cercato di attirare l'attenzione dell'opinione pubblica sul suo caso con proteste eclatanti, scioperi della fame e della sete e ancora barricandosi nell'ufficio del presidente della provincia aquilana Antonio Del Corvo fino a minacciare anche di lanciarsi da una finestra. Il procuratore della Repubblica dell'Aquila Fausto Cardella e sostituti Stefano Gallo e Roberta Davoglio hanno iscritto nel registro degli indagati Antonio Dell'Ellis 52 anni romano amministratore all'epoca dei fatti della Fininfrastrutture di Roma una delle società facente parte dell'Ati e i funzionari della provincia dell'Aquila Walter Specchio 57 anni già direttore generale dell'Ente ed Emilio Pacella 62 anni di Sulmona responsabile unico del procedimento dell'appalto in questione. Specchio è già stato arrestato il 3 dicembre 2012 nell'ambito di un'altra indagine della Procura su appalti ed escort per la messa in sicurezza di alcune scuole superiori del cratere del terremoto. Ed ora a Lanciano dove il sindaco Mario Pupillo ha firmato oggi il decreto di ritiro delle deleghe ai sette assessori annunciata per lunedì la presentazione della nuova giunta in Milico ci sono Dovidio e Tascione. Dopo l'ultima riunione di giunta comunale che si è tenuta ieri pomeriggio per provvedimenti urgenti il sindaco di Lanciano Mario Pupillo ha firmato questa mattina il decreto di revoca delle deleghe e sette assessori della sua ormai ex giunta. Il primo cittadino aveva annunciato lunedì in una affollata conferenza stampa la decisione oggi formalizzata con il decreto per una verifica politica e amministrativa del suo mandato iniziato a maggio 2011 dopo la vittoria al ballottaggio in apparentamento con le liste civiche. Gli assessori ai quali sono state revocate le deleghe da oggi tornano ad essere semplici cittadini poiché non sono consiglieri comunali. Pino Valente lista civica Progetto Lanciano vice sindaco e assessore alla cultura al turismo al commercio e trasporti Dora Bendotti lista civica Lanciano in comune assessore ai servizi sociali e le politiche comunitarie Antonio Di Naccio lista civica Progetto Lanciano assessore ai lavori pubblici e al patrimonio immobiliare Valentino Di Campli PD assessore allo sviluppo economico bilancio e personale Pasquale Sasso PD assessore all'urbanistica Marcello Dovidio assessore esterno in quota ai partiti minori di sinistra con delega istruzione sport e politica della casa Evandro Tascione lista civica Lanciano nel cuore assessore a sanità e ambiente la città ora resta in attesa di conoscere il nuovo esecutivo il pupillo bis ad oggi paiono scontate molte conferme mentre sembrano maggiormente in bilico Dovidio e Tascione per lasciare il posto libero almeno per Davide Caporale ex fedelissimo di Donato Di Fonzo e ora confluito nel gruppo misto Una rapina è stata messa a segno nella gioielleria montanari di via Conte di Ruvo a Pescara nel pomeriggio hanno agito in tre ma solo uno è entrato all'interno fingendo di essere un cliente disponeva sia di una pistola che di uno spray urticante sarebbe poi nata una colluttazione con il gioiegliere che è rimasto ferito in maniera lieve ed è stato soccorso dal 118 e portato in ospedale per le medicazioni il terzetto sarebbe poi fuggito con una panda bianca il bottino è di circa 300 euro uno dei tre rapinatori indossava una maschera di carnevale torniamo all'Aquila dove quasi 30 dipendenti dell'aeroporto appena inaugurato sono stati rimandati a casa uno degli ultimi atti della giunta comunale che risale alla fine del 2013 è quello del via libera al progetto da 2,8 milioni di euro per il potenziamento dell'aeroporto dei parchi di Preturo il tutto mentre già quasi la metà dei 60 dipendenti assunti grazie al bando regionale lavorare in Abruzzo 3 800 mila euro sono stati mandati a casa per il progetto preliminare dello scalo di Preturo è necessaria una variante urbanistica e anche in questo caso si parla di soldi pubblici per la precisione di risorse relative ai fondi FAS 2007 e 2013 i lavori previsti sono quelli per la messa in sicurezza dello strip laterale regimazione delle acque interramento delle luci della pista realizzazione di un percorso di avvicinamento e sentiero di avvicinamento installazione del sistema di radionavigazione per aeromobili tutte le opere saranno poi consegnate dal comune proprietario dello scalo al gestore che dovrà provvedere alla mototenzione ovvero la società Express che finora non è stata ancora in grado di far decollare lo scalo aquilano dopo il volo dimostrativo di dicembre da Roma all'Aquila la polvere è tornata ad accumularsi sui banchi di check-in nel rullo bagagli mentre per l'eventuale apertura di una qualche rotta bisognerà attendere la prossima primavera anche se raristicamente parlando in pochi credono nell'avvio a breve di voli commerciali da e per il capoluogo più verosimile all'ipotesi di un polo feristico all'aeroporto Ancora una notizia prima dello sport è stato rimesso in libertà Ermano Falone il 41enne Vastese è finito agli obblighi di dimora nell'ambito dell'operazione Ilvate che vede coinvolto l'ex assessore regionale alla cultura Luigi De Fanis l'avvocato difensore Angela Pennetta ha comunicato che a seguito del parere favorevole del PM Giuseppe Bellelli il GIP di Pescara Maria Carla Sacco ha disposto la rimissione in libertà del suo assistito che si dichiara innocente totalmente estraneo ai fatti che gli vengono contestati Falone il regale rappresentante dell'associazione coinvolta nell'inchiesta l'associazione culturale Abruzzo Antico Ed ora la pagina dello sport il calcio decine di trattative sul tavolo del DS Virtus Luca Leone ma i nuovi acquisti potrebbero arrivare solo a fine mese uno tra aridità e amabile potrebbe passare a Juve Stavia trattative a raffica ma senza fretta in attesa dell'uomo giusto passi felpati per la Virtus a metà della sessione invernale di calciomercato con la certezza che tantissimi nomi trapelati sinora non corrispondono alla verità assoluta potrebbe dunque scapparci l'acquisto a sorpresa non preventivato da tutti gli appassionati di calciomercato ma c'è ancora tempo piacciono comunque Marilungo e Petkovic idem Padovan ma Guglielmo Maio è chiarissimo la cosa che mi piace è comunque tutti i nomi che sono usciti non vedete precisi di quelli effettivamente che stiamo trattando e che stiamo pensando quindi vuol dire che state facendo un buon lavoro un buon lavoro ma quando escono i Marilungo i Santorini i Comi tutti quell'altro non è difficile di lanciare cercare una punta sempre ammesso che cerchiamo una punta e quindi tutte le punte che si muovono vengono a costruire a lanciare l'attaccante giusto arriverà senza scompensare equilibri propellente per la seconda fase del campionato nel frattempo si cederanno gli esuberi difficile trovare sistemazione a Fufanà si parla di un trasferimento di aridità o amabile alla Juve Stabia la squadra intanto continua a lavorare a Corato priva di Trest che in un paio di settimane si rimetterà dall'infortunio alla mano alla ripresa ci sarà il Brescia ancora sul mercato il DS Luca Leone piccolo in serie B lo vogliono tutti ma non è che è una notizia di mercato ma vabbè adesso dice nel senso che poi ma piccolo penso che vorrà andare in serie A non penso che voglia continuare a giocare in serie B vabbè sicuro sicuro l'obiettivo suo deve essere quello è normale che se ci sarà la possibilità o una richiesta che tuttora al momento non c'è è normale che noi non gli tarperemo le ali sicuramente però io penso che qualsiasi ambizione di qualsiasi calciatore che giova a calcio giovane perché ha 25 26 anni penso che abbia ancora margini per poter fare il grande salto lui deve pensare a fare bene bene come ha fatto l'anno scorso bene come sta facendo anche quest'anno magari se fa qualche gol in più a noi non ci dispiace per cercare di fare il grande salto quello deve essere il suo obiettivo poi noi ce l'accompagneremo molto volentieri approfondimenti questa sera nello spazio dedicato alla Virtus con Rosso Nero Positivo è tutto per questa edizione del TG Max grazie per l'attenzione vi ricordo che TG Servizi e Programmi sono sul nostro sito internet tgmax.it arrivederci grazie